Adriano Capuzzo, responsabile del settore arbitrale di questa manifestazione, insomma anche per voi si presenta un bel impegno, un impegno di otto mesi, come lo affrontate? Ma più che un impegno diciamo che un divertimento perché arbitrare questi ragazzi giovani è sempre abbastanza una passeggiata dal punto di vista arbitrale ma anche un piacere vederli giocare, vederli arbitrare quindi sarà un piacere senza altro come tutti gli anni. Diciamo che per questo tipo di manifestazione si trovano facilmente e spesso gli arbitri pronti a voler vivere anche loro questo tipo di bel contesto? Ma sì, c'è molta disponibilità da parte degli arbitri anche perché si divertono anche loro come appunto detto prima, è un divertimento vedere giocare i bambini, fossero tutti così anche nei grandi avremmo sicuramente vita facile e nonché anche un buono stipendio.